l'anniversario del uomo è questo ho poi deciso di fare qualche altra data in giro ma non avevo ancora un nuovo album ho pensato così di chiedergli ai fans attraverso il Fumiclub sul mio sito di proporre delle canzoni che non avevo suonato di recente è stata proprio la lista che mi avete mandato a determinare ciò che gli stai per ascoltare a determinare ciò che gli stai per ascoltare ho detto che mi sono sceltoаете vogliamo scelto di via la Voce una persona nella vita oggi non avevo scelto una banda di un'altra banda Il momento è stato fatto in questo momento, in questo periodo, in Julio. Mi ho deciso di essere deciso di fare altre concerti, in questo senso di spiegare. Ma ho capito ancora più, quindi ho pensato a tutti i miei amici, 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 che non ho mai spiegato mai. È in questo momento, che ho deciso di essere deciso di questo momento. Bastillez fosse in bed. Probabilmente tutti qui entriano l'anglico. Questo si chiama D.I. Grazie per la visione!